Oggi quello di cui vi parleremo è il salto che sta facendo la regione Lazio in quello che, visto che c'è una platea molto giovane e questo mi fa veramente felice, il Lazio sta cercando di fare il salto nel metaverso. Iniziamo il nostro racconto da Piazza San Pietro 2005. Nel 2005 viene eletto un nuovo Papa e viene eletto Papa Benedetto XVI. La cosa che vi chiedo di fare attenzione è controllare cosa stanno facendo le persone in questa piazza in un momento così importante della storia. Se ci fate caso stanno tutti guardando verso l'alto nel tentativo di vedere la prima immagine del Papa che esce dal balcone. Passano otto anni e cambia radicalmente il modo di attendere questo evento. Qui stiamo di fronte ad un'elezione di un nuovo Papa, è il momento in cui verrà eletto Papa Francesco, ma la reazione è completamente diversa. Quindi ci troviamo davanti persone che sì, continuano a guardare verso l'alto, ma utilizzando il proprio smartphone, non utilizzano più il proprio sguardo. Passano altri sette anni e questo è un momento che penso che ci ricordiamo tutti. scoppia la pandemia e Piazza San Pietro diventa un posto assolutamente vuoto, senza nessuno, dove c'è solo un Papa che è lì con la sua voce a portare un messaggio di speranza. In quel momento in cui eravamo tutti completamente disperati, sempre attraverso uno schermo, ma questa volta da casa nostra. C'è che è successo in 15 anni? In 15 anni sono successe tantissime cose. Abbiamo vissuto probabilmente la rivoluzione innovativa più incredibile del secolo, senza probabilmente. È nato Facebook, che poi ha dato vita a tutti i social network che utilizziamo giornalmente. Sono usciti fuori dei codici strani, che si chiamano pure code, che purtroppo oggi conosciamo tutti perché sono legati a quello che ci ha lasciato poi la pandemia. E quindi tutti i documenti oggi, in tutti i documenti abbiamo questo simbolo che ci ricorda tutte le informazioni che sono presenti all'interno. Poi sono arrivati i droni che hanno cambiato e sconvolto completamente il punto di vista che avevamo fino a quel momento. Quindi oggi siamo in grado di vedere le cose da un punto di vista che non avevamo prima. Poi è arrivata la realtà aumentata e la realtà virtuale, che saranno i protagonisti di cui parleremo questa macchina. Infine il Covid, che ha preso tutta questa evoluzione e ha cambiato completamente le regole di tutto il gioco. Però per questo motivo oggi ci vogliamo prendere un po' in giro e vogliamo dire che il Lazio prende il turismo per il metaverso giusto. Perché questa frase? Perché, innanzitutto, che cos'è il metaverso? Il metaverso è una parola di cui se ne sente parlare tantissimo, anzi forse pure troppo in questo periodo. E la spiegazione precisa è è uno spazio virtuale che simula quello reale in cui gli utenti possono spostarsi per incontrare gli amici, visitare i musei o città, partecipare ai concerti, assistere virtualmente i clienti e andare al lavoro. Questa è l'idea di metaverso. Un posto, uno spazio, una ricostruzione della realtà che viviamo oggi, però completamente virtuale, dove è possibile fare tutto quello che facciamo nella realtà ma in uno spazio virtuale. e con una capacità di interazione molto più alta. Ma esiste il metaverso? Oggi sicuramente si è venuti qua tutti per sentire parlare di metaverso. Oggi non parleremo di metaverso, perché il metaverso non esiste. Oggi al momento non è proprio realizzabile. Il metaverso ha una difficoltà, una capacità di concentrare elementi al suo interno che necessita però di una grandissima connessione web e soprattutto degli hardware importanti. Immagino che tutti abbiate visto questi caschetti per la realtà virtuale. Sono dei caschetti che costano almeno 400 euro e quindi ad oggi diciamo che non se lo possono permettere in tantissimi questo metaverso. E quindi, che cosa è successo? Abbiamo pensato di, con il sogno di arrivare un giorno nel metaverso definitivo, intanto però di imbarcarci in questo viaggio e sfruttare la regione Lazio perché comunque è una delle regioni più belle che ci sono in Italia e quindi prendere il suo patrimonio e trasformarlo in un qualcosa che possa essere fruibile da tutti anche in modo virtuale. Partiamo dalle cose più piccole. Siamo partiti, oggi il nostro viaggio della regione parte da uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo abbastanza in Telerina ed è ufficialmente oggi il borgho più innovativo della regione Lazio. È un posto che ha unito tutte le tecnologie che esistono al momento nel mercato dell'accessibilità e dell'accoglienza turistica per far sì che il suo borgho sia più accessibile. Quindi hanno realizzato una segnaletica interattiva che poi vedremo poi nello specifico. Hanno realizzato un personaggio a cartone animati dedicato ai bambini o anche ai più grandi dove andando appunto in giro per il borgo con il telefonino si possono inquadrare questi personaggi i personaggi prendono vita e raccontano la storia con un linguaggio più semplice non il linguaggio dei paroloni legati alla cultura ma un linguaggio che possa avvicinare non solo i bambini ma anche i ragazzi soprattutto dell'età vostra per abbattere le distanze che sono sempre state innalzate dalla cultura nei confronti soprattutto delle persone più giovani. Con il drone che abbiamo visto prima sono andati a dare un nuovo punto di vista proprio del territorio perché la forza di Bassano comunque sia è questa particolarità del borgo ma soprattutto vederlo dall'alto perché fa sembrare comunque sia tutto molto più bello e fa pensare molto di più di che cosa stiamo parlando. L'ultimo aspetto è quello della realtà virtuale che vedremo adesso. Bassano in Teterina è uno dei posti appunto che vi dicevo più belli da un punto di vista di voli più belli d'Italia. Lo strumento che è stato realizzato adesso vi faccio fare un piccolo giro al volo è stato fatto pensando di viaggiare sopra Bassano in Teterina con la Mongolfiera quindi hai la possibilità semplicemente puntando in dito di vedere che volendo se clicchi qua potresti iniziare la visita della Chiesa dell'Immacolata della Concezione di Maria oppure andare alla scoperta del campanile nascosto o semplicemente scendere nel borgo quindi basta un clic che io mi trovo davanti all'interno del borgo e posso vedere a 360 gradi tutto quello che c'è intorno a me. Non è il classico virtual tour di cui si parlava tanti anni fa questa è un'esperienza virtuale tutto quello che oggi state vedendo per praticità sullo schermo è fruibile grazie a dei visori ma non i visori che costano così tanto di cui abbiamo parlato prima alla fine poi ci sarà un assessore che vi farà vedere qual è la soluzione che appunto darà la possibilità di prendere il turismo per il metaverso giusto spendendo pochissimo ma avendo lo stesso risultato poi vi dicevo poi all'interno c'è questo personaggio questa è Maria che appunto è un modo per comunicare con le persone in un modo diverso anche più semplice fino poi ovviamente a avere la possibilità di andare nella visita della torre piuttosto che del borgo e vedere i particolari da vicino ma questo soprattutto non andrà a sostituire quello che poi sarà la visita effettiva di un borgo nella realtà questo è uno strumento che viene utilizzato soltanto per dare la possibilità alle persone tramite il web tramite un sito internet tramite un messaggio su whatsapp perché può essere tutto tranquillamente inviato con un messaggio di condividere e far conoscere al mondo che esiste una realtà che pur piccola ha una storia incredibile e soprattutto ha questa torre che si chiama torre nascosta perché al suo interno c'è una torre nascosta dentro una torre è una cosa unica al mondo e questo appunto lo strumento per presentarle al meglio è stato quello della realtà virtuale nell'attesa che siamo in attesa che arrivi il sindaco di Bassano Intervino che è anche il presidente della provincia vi facciamo vedere in anteprima il video che hanno realizzato e che viene lanciato proprio oggi per presentare il passato e che viene a realizzare il passato Grazie a tutti. Grazie a tutti. È proprio stato quello di portare le persone a vivere un'esperienza. È ovvio, stiamo parlando di un piccolo volgo, non stiamo parlando di una grande realtà, di un grande patrimonio unesco, però in questo caso si fa leva sul fruttore finale. Il fruttore finale che andrà a vivere o a visitare un volgo come questo, ci fa più tutta una serie di motivazioni che sono racchiusi in questo video, dove in 60 secondi ti do solo e esclusivamente l'idea e la sensazione dell'emozione e dei suoni che potresti vivere appunto all'interno di questo corpo. Poi a un certo punto, grazie sempre alla Regione Lazio, abbiamo iniziato a giocare con questo sistema, abbiamo visto che funzionava molto. E la cosa che ci è venuta in mente è, ok, prendiamo una delle popolazioni più importanti che sono presenti proprio sul territorio, che sono gli etruschi e li portiamo a scuola. Anzi, spesso e volentieri, nelle scuole è un tema che viene trattato sempre troppo poco, perché il tempo comunque sia, continua ad andare avanti, i libri di scuola si riempiono di nuove materie, di nuove informazioni, nuove date, nuove storie. Spesso e volentieri quello che è stato il passato un po' si dimentica. E gli etruschi sono uno di quei popoli che purtroppo ogni tanto vengono accorciati nei libri di scuola. Quindi l'idea nostra qual è stata? È stata quella di realizzare uno strumento che avrebbe dato la possibilità a tutte le scuole di venire a conoscere le realtà degli etruschi senza venirci. Ovviamente è uno strumento però che serve sempre, solo esclusivamente a fini promozionali. In questo caso che cosa è stato fatto? Grazie alla sovrintendenza e al ministero che hanno dato le autorizzazioni, abbiamo avuto l'onore e il privilegio di entrare all'interno delle tombe, aprire queste porte che solitamente, se voi andate in visita alla Neuropoli di Tarquinia, tutti gli affreschi che trovati nelle tombe sono chiusi da un vetro, perché lasciandole aperte se no si rovinerebbero a contatto con l'ossigeno, quindi hanno necessità di essere tenute in un certo modo. L'emozione è stata tanta, perché avere la possibilità di entrare e sentire l'odore, vivere da dentro una tomba etrusca, ci ha dato la possibilità poi di appunto ricostruirla da un punto di vista virtuale e creare uno strumento, che ora vi faccio vedere un piccolo video, che ha servito per portare, che servirà per portare gli etruschi all'interno delle scuole. Grazie a tutti! Grazie a tutti! In questo caso il Comune di Tarquinia manderanno delle email a tutti gli istituti di scuole e scuole italiane. Questa email darà la possibilità di accedere gratuitamente a questa visita virtuale, dove la nostra idea è di proporlo come una realtà che potrebbe diventare tranquillamente una gita scolastica, ma al tempo stesso creare l'esperienza proprio all'interno delle scuole. Quindi dare la possibilità anche agli insegnanti di avere uno strumento per raccontare l'archeologia in un modo, e soprattutto con un linguaggio più presente, più vicino a loro, più vicino ai giovani, anche perché sono loro i frittori finali di questo servizio. È inutile che continuiamo a propinargli centinaia e centinaia di pagine di libri, che sono importanti, ma devono essere collegate ad un'esperienza. E questo è l'obiettivo. All'interno di questa visita virtuale, la visita virtuale può essere fatta per un ragazzo che sta frequentando le scuole medie, oppure per un liceo o un istituto superiore. All'interno di questa visita tu hai la possibilità appunto di vedere gli affreschi da vicino, fare il tour virtuale, avvicinarsi e vedere i particolari, ma hai anche una guida che, con un audio, ti racconta che cosa stai vedendo e te lo spiega. Una volta che tu pensi di aver ottenuto le informazioni di cui necessiti, puoi iniziare a giocare con questo strumento. Ecco perché si utilizza in diverse modalità. Iniziamo con le scuole medie, dove ovviamente non gli si chiede di fare una tesi sugli edruschi, ma gli si trarà la possibilità di cercare degli oggetti all'interno di questa visita virtuale, trovando questi oggetti in base agli oggetti che trovano, appumulano un punteggio che li porterà poi, finché non hanno raggiunto il punteggio prefissato, non possono andare avanti e quindi non possono accedere alle altre tour. Diverso è il discorso per gli istituti superiori, dove all'interno ci sono anche tutta una serie di domande e risposte, la risposta multipla, dove in base alla risposta, se è giusta o sbagliata, si acquisisce o si perde del punteggio. Alla fine del percorso è come se fosse un escape route. Alla fine di questo discorso, di questa esperienza, si ottiene un punteggio e in base al punteggio che si ottiene il sistema cosa fa? Ti chiede di essere registrato, ti registri con una mail, che darà la possibilità poi alla regione e al comune di avere uno strumento in più per promuoversi e poi invia un diploma di cittadino onorario etrusco in base al punteggio che hai acquisito. Se hai fatto il massimo del punteggio, sarai un lucumone intelligentissimo, re sovrano degli etruschi, invece hai fatto poco e probabilmente sarai un povero contadino romano che si è perso per le campagne di Tarquinia. Tutto quello che avete visto serve solo ed esclusivamente per fare una promozione di quello che è possibile poi vedere e trovare appunto in questi patrimoni dissimilati in tutta la regione Lazio. Quello che vi facciamo vedere e che ci farà la premista per il nostro prossimo ospite è la segnaletica interattiva che è stata realizzata per la città di Tarquinia. Proprio perché prima puntiamo a far vedere e a far invogliare ovviamente le scuole e anche le famiglie e i turisti a venire a conoscere le bellezze della regione Lazio, ma nel momento in cui arrivano il problema più grande è che poi devono essere accolti. Spesso e volentieri il problema più grande è che non c'è l'accessibilità delle informazioni, cioè la conoscenza delle informazioni legate a un sito archeologico piuttosto che a una città o a un monumento, sono fondamentali ma devono essere fruite nella maniera giusta. Questo è un progetto che è nato ormai diversi anni fa, 6-7 anni fa, ed è stato sempre migliorato nel tempo, perché il suo obiettivo è quello di dare la possibilità ad una cittadina come Tarquinia di avere uno strumento che la aiuti a raccontare, a parlare delle sue bellezze a chiunque arrivi in città. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sarebbe impossibile pensare di avere l'info point aperto tutto questo tempo, anche perché le amministrazioni non riuscirebbero a finanziarli soprattutto questi infopoint e soprattutto sarebbe un'utopia pensare di avere una guida personale che ci accompagni durante tutto il percorso. Invece quello che ha un obiettivo ovviamente non è sostituire l'info point, non è sostituire una guida turistica, ma anzi aiutarli perché il turista che si trova in una città come questa qua, dove ci sono 45 punti di interesse, una necropoli etrusca, un'area archeologica vastissima, la natura, il lido, hai il rischio che ti perdi, magari le cose più belle o quelle che ti interessano. Quindi con il QR code di cui parlavamo prima, invece di scansionare e dimostrare che abbiamo fatto tutti i tamponi possibili e immaginabili, oggi diamo delle informazioni in più lingue, perché ricordiamoci che l'accessibilità parte da il idioma che parliamo. Spesso diamo per scontato, mettiamo l'inglese, tanto l'inglese bene o male, no, non capisce nessuno, tutti pensano che lo parlano tutti, ma non è vero. Quindi, tipo un intervento che stiamo facendo su una città importante come quella di Roma, addirittura le lingue parlate saranno nuove. A Milano abbiamo messo il cinese, addirittura, perché? Perché è necessario dare queste informazioni. Poi come vedete dal video c'è un tasto che è importantissimo, è quello della disabilità. Nessuno pensa come dare informazioni a un disabile che non può parlare o che non sente o che è cieco. La cosa che ci ha lasciato impressionati quando abbiamo iniziato su questo progetto, pensavamo che una persona sorda semplicemente avrebbe potuto leggere. Una persona sorda, se è sorda dalla nascita, non ha mai potuto avere la possibilità di imparare l'italiano a leggerlo. E quindi ha necessità di un altro strumento che è quello del linguaggio di segno. Quindi grazie al tuo accordo tu accedi anche ad un segnante che ti traduce quello che è scritto in italiano e inglese in altre lingue anche nella lingua italiana di segno, che oggi finalmente diventa una lingua ufficiale sul territorio italiano, riconosciuta dal ministero. Altro aspetto, le persone con disabilità, visibile e invisibile, perché noi pensiamo che un disabile è una persona che sta su una serie a rotelle. pensiamo alla disabilità in un modo un po' più ampio. Cioè spesso e volentieri anche una persona, anche una donna che è incinta, ovviamente non è disabile, ma ha delle difficoltà magari a salire su una torre e fare i 500 gradini nonostante che ci siano tutte le accortezze. Questo è uno strumento dove tu hai la possibilità almeno di godere del panorama che ci sarebbe in alto della torre. Ci sono sempre più possibili, sempre più persone soffrono di ansia, di attacchi di panico. Immaginate che cosa significa entrare dentro una tomba se soffri di queste cose. Almeno ti danno la possibilità di vivere a livello esperienziale questo patrimonio in tutti i modi possibili e immaginabili, compreso quello che ovviamente è per i giovani. Qui addirittura abbiamo giocato e realizzato una colonna sonora dedicata a ogni monumento proprio perché c'erano alcuni monumenti che erano vicine le vicinanze di aree a grande viabilità e quindi il rumore stesso avrebbe potuto rovinare un pochino l'esperienza della visita. In questo caso ci siamo fatti scrivere delle colonne sonore fatte apposta per la città, studiate per la città, che accompagnano il turista e gli danno la possibilità di viversi in un tramonto così bello. Tarquinia è riconosciuta in Italia come la città parlante, è stata la prima città in Italia in assoluto che ha adottato questo sistema, che oggi è adottato da oltre 150 comuni in Italia. Quindi per fortuna diciamo che l'evoluzione e l'innovazione si sta poi portando anche oltre. Uno dei motivi per cui Tarquinia è riconosciuta come la città parlante è anche perché ha una meravigliosa sala degli affreschi dove all'interno è contenuta la storia della Tarquinia medievale. Tarquinia ha tre momenti storici, uno è quello etrusco, si chiamava Tarkna, poi ha quello medievale dove veniva chiamata Corneto e poi nel periodo moderno diventa Tarquinia. In questa sala degli affreschi, meravigliosa, ci sono i personaggi che hanno segnato la storia della Tarquinia medievale, dal cardinale di Vitelleschi a un semplice sediario che sta portando il Papa in visita su Roma. Però io vengo da Tarquinia, io ci ho vissuto là dentro, sono entrato dentro questa sala migliaia di volte, ma non sapevo una storia. Grazie a questo strumento che cosa succede? Chiunque col proprio telefonino può semplicemente inquadrare gli affreschi, gli affreschi prendono vita e sono loro stessi che raccontano la storia. Quindi qua c'è il cardinale di Vitelleschi, la stato che fu eretta per il cardinale di Vitelleschi, qua è uno dei magistrati che raccontano con la propria voce la storia e fanno capire quanto sia stata importante Tarquinia in quel periodo. E soprattutto danno la possibilità alle persone di rimanere 20 minuti in più sulla città, perché quella sala l'avresti vissuta semplicemente con entro, vedo gli affreschi, c'ho sotto di 25 anni ma annoio dopo 30 secondi, faccio un selfie con qualche disegno strano che vedo negli affreschi perché è quello che magari mi colpisce dal Vitelleschi e finisce l'esperienza. Invece in questo modo può diventare anche un argomento poi da riportare a casa e parlarne, perché non ho i propri genitori. Per fare questo poi ovviamente abbiamo ricostruito anche qua tutto in realtà virtuale per poi dare la possibilità appunto alle persone di fruire di questo bene che per la città è fondamentale, però con una definizione diversa rispetto a tutto quello che avete visto fino adesso, qua si sono adoperate delle paricchiature con una qualità molto più alta, dove tu hai la possibilità di zoomare fino a trovarti l'affresco davanti simulando proprio la realtà. Ripeto, tutto lo strumento è fatto solo ed esclusivamente per scopi promozionali, anche perché in qualsiasi punto di questo tour virtuale hai la possibilità di cliccare e entrare in collaborazione e in comunicazione subito con gli uffici in formazione, con le guide, con l'amministrazione, prenotare, cercare di trovare un dialogo tra le parti per organizzare qualcosa. Non ha scopo di sostituire la visita in presenza, assolutamente però è uno strumento che se lo portiamo dentro le scuole, i ragazzi molto probabilmente imparano divertendosi, magari sarebbe più semplice la lezione anche per l'insegnante stessa e soprattutto potrebbe dargli la possibilità di preparare già la visita nel momento in cui poi arrivano, perché se il ragazzo arriva in un luogo archeologico che già conosce, lo vivrà in un modo diverso, lo vivrà con un entusiasmo che è quello della conoscenza, questo è la nostra mission principale. Per fare questo adesso lascio la parola all'assessore appunto di Tarquinia, che è stata uno degli elementi che ha dato la possibilità di realizzare tutto questo e che vi farà vedere perché il metaverso non esiste ma possiamo già utilizzarlo, sfruttando una possibilità diciamo a livello tecnologico molto più semplice che è uno di questi oggetti che vedete sulla scrivania. Vi faccio vedere un video e poi lascio la parola a lei. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, ciao, io sono Martina Dosoli, l'assessore al comune di Tarquinia, turismo, cultura, eventi della città in provincia di Viterbo di cui abbiamo parlato abbondantemente oggi insieme ad Abbassano il Teverino. Prendere il turismo per il metaverso giusto, come diceva Leonardo, oggi è un po' la prorogativa per il quale noi stiamo tenendo le nostre strategie di promozione non solo, ma anche di formazione. E se siete qui oggi a seguire questo intervento perché sicuramente nel vostro istituto si sta già parlando di metaverso in qualche modo. Tutto questo è stato accelerato dalla pandemia. Durante la pandemia la didattica è arrivata a distanza, è arrivata a scuola in maniera diciamo totale e ci ha fatto fare grandi passi avanti sia sul discorso della formazione ma anche sulla promozione turistica. Quindi anche noi in pandemia avevamo l'esigenza di andare avanti con il nostro lavoro e ci siamo seduti cercando di realizzare un prodotto insieme a Skylab e anche alla regionale, al Ministro della Cultura, che potesse in qualche modo prima volta non farci perdere il tempo che stanno vivendo perché quel tempo era bloccato, congelato e quindi dovevamo in qualche modo reinventarci. E poi, non sapendo se questa pandemia avrebbe avuto fine, dovevamo realizzare un prodotto per farvi conoscere quello che avevamo a Tarquinia, quindi portarvi all'interno della nostra necropoli. Abbiamo studiato la realizzazione di un nuovo sito internet, quindi ripristinato tutto quello che era un po' diciamo la linea strategica della nostra promozione, creato questo sito che si chiama Tarquinia Turismo, inserire il telefono all'interno di questi carbons che vi sono stati dati, e fare questo viaggio, questo tour virtuale in Mongolfiera entrando direttamente da qualsiasi posto, dal divano, dalla metro mentre aspettate l'auto, dalla metro mentre andate al lavoro, dall'autobus, e entrare dentro la nostra città. Perché abbiamo fatto questo? Per due motivi, cioè il primo per la pandemia, il secondo motivo appunto era per avvicinare il più possibile le persone, i ragazzi, a quello che è il patrimonio archeologico. La cultura ha sempre avuto in qualche modo una barriera rispetto a delle età più giovani. Se si parla di necropoli, se si parla appunto di archeologia, diventa noioso. Oggi, grazie a questi strumenti, grazie appunto ai tour virtuali, come giocate ai videogiochi e come fate le vostre esperienze, diciamo, di piacere con i vostri amici, potete in qualche modo anche utilizzare un dispositivo come questo per imparare e conoscere cose nuove. Siamo stati criticati, lo dico apertamente, perché poi, diciamo, quando si fanno queste cose un po' così, tra virgolette, alternative, non tutti comprendono esattamente quello che si sta facendo. Siamo stati criticati perché qualcuno pensava appunto che questa esperienza limitasse l'esperienza diretta. Non è stato così. Abbiamo avuto tante referenze con il tempo, diciamo, in questo anno, perché molti turisti sono tornati avendo già vissuto le esperienze del tour virtuale. Allo stesso modo, diciamo, le scuole. Le scuole, quando vengono a Tarquinia, il turismo scolastico è un segmento importantissimo per la nostra città. Chiaramente non possono vedere tutto perché i giorni a volte sono limitati, l'esperienza anche diretta è, diciamo, occupata da altre cose. E quindi, grazie a questo nuovo dispositivo, possono ritagliarsi una pre-gita scolastica prima di venire direttamente a Tarquinia o, perché no, anche uno spazio all'interno del nostro, magari, Infopoint che può accoglierli dove parlare di questo virtual tour. Quindi, diciamo, grazie appunto a questa innovazione tecnologica riusciamo a sintetizzare quello che vediamo, quello che vorremmo vedere e quello che vedremo quando andremo sul luogo. Vi invito a fare, facciamo una prova, non so se l'avete tutti già, allora dovete prendere il cellulare. Utilizzate il QR che è qui, esattamente qui, e questo vi collegherà già al nostro sito. Si apre questo, lo inserite all'interno dell'occhialetto e si apre quello che prima Leonardo vi ha fatto vedere qui, ovvero un viaggio in Mongolfiera da poter fare sia sulle aree archeologiche ma anche all'interno della città. Si può entrare all'interno dei palazzi, si possono visitare appunto i siti in maniera veramente straordinaria, tutto questo ovunque voi siate. Quindi spero che sia l'inizio di un viaggio virtuale che vi porterà poi a Tarquinia. Ringrazio Oscar Lab, la Regione Lazio e il Ministro della Cultura. La cosa fondamentale è fatene buon uso, nel senso che è un link che potete condividere conversato, in modo più semplice e in assoluto. Quindi chiunque può effettivamente vivere l'esperienza di Tarquinia. Per Tarquinia l'esperienza che è stata vissuta appunto ha aperto anche la possibilità di, immaginatevi, di poter aprire le porte virtuali anche di un parrimonio molto più grande e molto più conosciuto come quello di Roma che ovviamente ha un riconoscimento da un punto di vista internazionale incredibile. Questo sistema di andare a fare la stessa cosa che è stata fatta in questi volgi piuttosto che aree archeologiche è stato fatto anche all'interno dei musei capitolini. I musei capitolini sono uno dei musei più importanti in assoluto al mondo. Allora immaginatevi la possibilità di avere nel palmo della mano oltre 150 sale con tutta la storia presente all'interno dei musei capitolini e poter provare l'esperienza. perché lo stacco che c'è tra un giovane e un museo capitolino è andiamo a fare la visita del museo capitolino e un giovane risponde con panico. Padre cure. Nel momento in cui tu vedi che cosa andrai a vedere vi posso garantire che è una roba eccezionale, è una roba che vi creerà delle emozioni che vi porterete nel tempo. Immaginatevi questo strumento non solo per fare questa visita perché ripeto è solo esclusivamente a scopo promozionale ma il concetto di metaverso che stiamo portando avanti che è quello appunto che il metaverso per il momento non esiste ma grazie a un cartoncino che costa 10 euro si ha la possibilità di sostituire il visore da 400 euro che bloccano questo sviluppo appunto di questa tecnologia e dare la possibilità a un museo come appunto i musei capitolini piuttosto che l'Arapacis di diventare invece uno spazio espositivo virtuale. Cioè una volta che tu hai ricostruito un ambiente del genere hai la possibilità di sfruttarlo e utilizzarlo per crearci degli eventi all'interno che ripeto non è mai per sostituire l'evento in presenza ma se un evento come quello che stiamo facendo oggi mentre lo facevamo qua oggi facevamo anche la diretta su Facebook come faremo mettiamo il video online immaginatevi la possibilità di creare questo ambiente virtuale magari facevamo questo workshop lo facevamo dentro le tombe rusche e intanto tutti potevano vedere di che cosa stavamo parlando o magari lo facevamo nella sala più bella dei musei capitolini a parte che non eravamo sicuramente 50 ma molto probabilmente saremmo stati 3-4 mila questo dà la possibilità appunto di incentivare il turismo. Un'operazione come quella che è stata fatta per Roma Capitale, Roma Culture e Zetema ha dato la possibilità di accedere a un mercato che oggi era bloccato dalla pandemia. Questo dà la possibilità nel momento in cui si riaprono le porte di avere probabilmente già raccontato nel modo giusto un segmento di mercato molto importante quindi anche una questione economica. Chiudiamo con e domani se non ci abbiamo i 400 euro non succederà niente perché tanto il metaverso ragazzi scordatevelo almeno per 2-3 anni tutti parleranno di metaverso ma saranno tutte simulazioni del metaverso. Domani quello che abbiamo pensato noi vi vogliamo lasciare con questa cosa che è un po' divertente avere uno studio come il nostro e partire da niente da una piccola realtà come Tarquinia e essere fortunati perché il patrimonio UNESCO ci ha dato la possibilità di realizzare un qualche cosa per un patrimonio UNESCO che poi ci ha fatto conoscere in tutta Italia ti porta a immaginare la realtà in un modo completamente diverso. Fai difficoltà a presentare la tua azienda, a presentare quello che fai. Quindi ci siamo appoggiati a questa tipologia di strumentazione e diciamo innovazione per creare il nostro studio virtuale come ce lo siamo sempre immaginati. All'interno del nostro studio saranno degli ambienti virtuali incredibili che abbiamo dato un certo sospetto. Abbiamo Dante come ospite d'onore, abbiamo un auditorium tra 100 posti dove proiettiamo tutti i nostri video, facciamo vedere tutte le nostre soluzioni di realtà aumentata, c'è tutta la versione nostra, tutto il personale nostro. C'è anche Daniele De Rossi. Tutto il personale nostro è realizzato in avatar perché sinceramente io vengo un po' meglio in avatar che di persona e ognuno di questi dà la possibilità di parlare, dialogare con noi e conoscere meglio, abbattere le distanze che ci sono tra la possibilità e la necessità che può avere un museo, un comune o un privato con i servizi che facciamo noi. In più gli diamo la possibilità di fare un preview e di avere un preview di tutte le visite virtuali che abbiamo fatto. È come se fosse un enorme museo dove all'interno tu hai la possibilità di vivere tantissime esperienze. Nel momento in cui ti ho convinto, perché l'obiettivo è convincerti, basta cliccare un pulsante e magicamente squilla il nostro telefono dove ti risponderà qualcuno di noi e sarai collegato direttamente in video call. E quindi potrai parlare con noi mentre giriamo dentro il nostro ufficio. Quindi potrai toccare cose, potrai dire ma come hai fatto a fare la gioconda parlante? Noi te lo possiamo spiegare mentre lo stiamo vedendo. Questa è la nostra idea di futuro e spero che vi sia piaciuto. Grazie.